Un anno molto importante per noi, siamo quattro mesi dalle elezioni, quindi è una conferenza stampa di fine anno, ma è anche una conferenza stampa che può racchiudere anche tutto il nostro mandato che è arrivato a conclusione. Fra qualche mese ci sarà lo scioglimento del Consiglio Comunale, quindi abbiamo voluto ricordare soprattutto quello che è avvenuto nel 2015, alcune opere importanti, alcuni interventi che hanno cambiato l'aspetto della nostra città, in particolare penso alla raccolta differenziata porta a porta, finalmente dopo anni e anni di discussioni, di chiacchiere, la città non ha più i cassonetti, siamo passati dal 6% di raccolta differenziata quando siamo arrivati in questa città a governarla ed era una delle più basse percentuali d'Italia, adesso siamo al 45% e contiamo di arrivare al 65% prima della fine del nostro mandato. Penso poi ad altri interventi che cambieranno l'aspetto e il volto di Roseto, penso alla pista ciclabile per esempio, che stiamo per appaltare all'inizio dell'anno, appalteremo i lavori su 9 km di pista ciclabile che collegherà Roseto con Scerne di Pineto e anche il ponte sul Vomano che verrà appaltato dalla provincia. Penso ad alcuni interventi anche di carattere simbolico molto forti, antenna di Montepagano, tante volte si era anni di discussione, noi l'avamo scritto che l'avremmo tolta, l'antenna a Montepagano non c'è più. Penso anche ad alcuni interventi di decoro sul decoro urbano, al parco Nino Bixio, un lavoro atteso da anni, che i cartelli erano già lì prima che arrivassimo noi e che non era stato mai fatto, che oggi è stato completato. Penso alle campagne di sensibilizzazione che è stato fatto contro chi inquina e sporca questa città, alle politiche del lavoro, alla grande disponibilità che questa amministrazione ha dato nei confronti degli imprenditori, osteggiata dall'opposizione in maniera violenta. Noi invece siamo convinti che chi ha capacità, idee e mezzi finanziari a disposizione, siano imprenditori seri, vagano sostenuti e noi l'abbiamo fatto.